E senza ombra di dubbio un problema da affrontare con estrema urgenza e con l'ausilio di tutti gli attori in campo. E questo è il messaggio che accompagna un video giunto in redazione che raffigura un branco di cinghiali a spasso per le campagne in un territorio immerso nella murgia. Tra Andria, Altamura, Minervino, Spinazzola e tutti i comuni del comprensorio, infatti gli avvistamenti non si contano più. Ed il pericolo corre sulle strade provinciali interne, ma anche nei campi coltivati, dove i cinghiali si riversano alla ricerca di cibo. Il video d'altronde parla chiaro. Un branco, formato da oltre una cinquantina di esemplari tra adulti e cuccioli, corre verso il bosco transitando sulla provinciale con enorme sorpresa del gruppo a bordo dell'autovettura e che ha filmato il passaggio. Ma le segnalazioni, purtroppo, sono ormai all'ordine del giorno. Grazie a tutti.